Salve a tutti, mi chiamo Andrea Mastursi, sono un medico oculista, specialista quindi in oftalmologia, termino ormai disuso e lavoro presso il centro fisiomedic di Cesena e l'ospedale Bufalini dell'omonima città. Come oculista mi occupo della salute dell'occhio, è importante eseguire delle visite oculistiche periodiche per poter diagnosticare in tempo delle patologie che magari al principio non danno una chiara sintomatologia. Ci occupiamo fondamentalmente durante la visita non solo della refrazione, cioè dell'eventualità, della possibilità o della necessità di utilizzare gli occhiali, ma valutiamo il bulbo oculare nella sua interezza, dalla cornea, camera anteriore, iride, cristallino, vitrio, retina, nervo ottico. Ed è importante appunto avere un quadro d'insieme dell'intero occhio per poterne valutare la sua salute e la sua funzionalità. Durante la visita oculistica eseguita presso il nostro centro non solo valutiamo la refrazione dell'occhio, cioè la possibilità di utilizzare o meno gli occhiali, ma valutiamo tutte le strutture del bulbo oculare, ovvero la cornea, la camera anteriore, l'iride, il cristallino, il vitrio, la retina, il nervo ottico, misuriamo la pressione, diamo uno sguardo alla macula e quindi a tutte le eventuali possibili patologie al quale l'occhio può essere interessato. Durante lo svolgimento della visita oculistica possiamo andare a determinare se ci sono eventuali patologie della cornea, eventuali patologie del cristallino come la cataratta, eventuali patologie legate alla pressione dell'occhio come il glaucoma, eventuali patologie legate alla retina come ad esempio le maculopatie oggi molto molto importanti. La collaborazione col centro fisiomedic di Cesena è iniziata grazie ad un lavoro di equip e un rapporto di amicizia con i titolari e tutti i dipendenti, al fine anche di adjuvare la loro specifica attitudine, ovvero quella di risolvere problemi legati anche alla postura. Infatti non tutti sanno che alcuni problemi posturali sono legati a dei difetti di refrazione e non solo ma anche di oculomozione collegati appunto a delle alterazioni del bulbo oculare. Concludendo vi esorto a fare attenzione alla salute dei vostri occhi e non solo. Anche persone che pensano di godere di ottimo stato in ambito salutare in realtà possono avere purtroppo delle patologie in essere. È molto importante quindi diagnosticare in tempo qualsiasi tipo di patologia al fine di poterla trattare e curare nel migliore dei modi e con i minori effetti dannosi legati alla stessa. Vi esorto quindi a venirci a trovare al centro fisiomedic di Cesena dove troverete un'equip e un personale altamente specializzato, qualificato e motivato al fine di risolvere quelli che sono i vostri problemi a 360 gradi. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.